Oggi qui ci hanno invitato per questo workshop a presentare una nostra recente esperienza che è stata la progettazione definitiva per la nuova sede della Scuola Sant'Anna, il Parco Tecnologico Scientifico, gara che abbiamo vinto due anni fa e proprio come occasione importante e professionale l'abbiamo utilizzata come banco di prova per riattrezzare le conoscenze di progettazione del nostro studio e cercare di adeguarsi ai tempi con un po' di sforzo, però devo dire che l'applicazione del BIM in questa nostra esperienza è stata positiva e siamo arrivati in tempi molto brevi, nonostante un inizio un po' difficoltoso come sempre in queste occasioni succede, però siamo arrivati a raggiungere risultati soddisfacenti chiudendo la progettazione per il nostro committente in tempi molto brevi. Tutto questo è avvenuto con la collaborazione del nostro BIM manager, ingegnere Zanchetta che ci ha assistito nella progettazione per lo sviluppo del modello. Sì, io sono Carlo Zanchetta, Università degli Studi di Padova e ho affiancato lo studio Plicchi nell'acquisizione di questa conoscenza proprio al fine di evadere il progetto definitivo della Scuola Sant'Anna di Pisa e devo dire che oltre alla significatività di questa case history in relazione al fatto che gli obiettivi ipotizzati sono stati raggiunti anche nei tempi previsti, questa esperienza con riferimento al progetto Sant'Anna ci racconta anche quello che può essere quanto dobbiamo chiedere al modello BIM in quanto appunto il modello diviene proprio il luogo nel quale poter far confluire gli apporti di ciascuno dei soggetti coinvolti sia nella progettazione ma anche nella valutazione del progetto proprio per affinare le prestazioni dell'edificio al fine di cercare di contribuire in maniera effettiva alla qualificazione dell'ambiente costruito. Se c'è una cosa che la modellazione BIM attiva è proprio il fatto di creare questa interoperabilità delle conoscenze oltre che appunto l'interoperabilità dei formati e in questo caso mi sento di dire, appunto lo studio Plichy mi sembra che lo confermi, che questa interoperabilità delle competenze delle conoscenze si è attivata. Di più il messaggio positivo è l'accessibilità di questa qualificazione del processo nel senso che questo di più e non semplicemente un diversamente è stato ottenuto nei tempi previsti cioè non si è semplicemente dato seguito ad una richiesta che era quella di produrre un modello BIM ma è stato appunto cercato di creare un modello che comportasse una qualificazione del progetto. Questo è un po' il messaggio che vogliamo trasferire quest'oggi.